E' stato trovato in casa con 5 bombole acquistate per far saltare in aria la palazzina dove viveva, strage scongiurata annesima dove un uomo mentalmente instabile in più occasioni aveva manifestato minacce di morte ai vicini di casa che spaventati avevano deciso di segnalare alla polizia le intenzioni dell'anziano. Lo stabile è stato subito messo in sicurezza e l'uomo, in evidente stato confusionale, è stato affidato ai medici per un trattamento sanitario obbligatorio.